Sulla politica estera c'è la tutela dell'interesse nazionale e del ruolo che l'Italia deve svolgere. Sono lieto che la sinistra abbia compreso che non ci si deve dividere. Noi siamo sempre stati disponibili ad avere un consenso complessivo di tutte le forze politiche per quanto riguarda la politica estera, perché siamo sempre mossi con grande equilibrio, con grande serietà. Siamo sempre e comunque, sia per quanto riguarda l'Ucraina, sia per quanto riguarda il Mediorente, lavorato per la pace, parlando con tutti, avendo delle posizioni chiare, essendo amici di Israele, ma abbiamo sempre detto la verità, quello che pensavamo anche a Israele, l'abbiamo detto da amici, lavorando per la pace. Ci siamo mossi per la difesa delle vittime palestinesi della guerra, li abbiamo accolti in Italia, li abbiamo curati a bordo della nave vulcano. Il fatto che ci sia una visione comune della politica estera, questo rafforza soltanto la posizione dell'Italia e questo è il compito che noi abbiamo.